Mi chiamo Giraldi Giancarlo, faccio l'agente immobiliare da 34 anni, avendo fatto prima esperienza nel settore economico-finanziario in campo assicurativo, avendo fondato il ramo credito e cauzioni nella più importante compagnia europea del settore. Quindi credo di capire qualcosa di credito. Ho sentito delle cose molto belle. Ho sentito chiedere in maniera molto intelligente da Paolo Bellini una detassazione. Io credo che la detassazione sia importante ma sia difficile, soprattutto non basti in un momento in cui manca il credito, manca la fiducia, manca il lavoro. Se abbiamo una prospettiva perché riprenda il nostro lavoro, il nostro lavoro può riprendere solo se riprende l'economia a livello nazionale. Allora, abbiamo sentito dieci proposte per gli agenti. Io ne faccio un'ultima. Quella di fare proposte. Io ne ho una da fare. Sembra una provocazione, non è una provocazione. Conti matematici alla mano ci consentono di dire che se vogliamo una ripresa economica dobbiamo agire sulle famiglie. Le famiglie sono i consumatori. Noi dobbiamo consentire alle famiglie di poter consumare. È banale questo, però bisogna che ci pensi anche il potere politico. Perché consumino? Le cose sono tre. O aumentiamo gli stipendi e ammazziamo le attività produttive che non ce la fanno a pagare di più di quello che pagano. O riduciamo le imposte. Le hanno appena aumentate perché siamo alla canna del gas. E allora c'è solo una cosa da fare. Analizzare come le famiglie italiane spendono il loro denaro. La voce maggiore è proprio la casa. Investe il nostro settore. In Italia abbiamo, dati ISTAT, 25 milioni di famiglie. Abbiamo circa 15 milioni di mutui. Se noi non agiamo, riducendo per un periodo lungo, parlo di almeno 5 anni, le rate di mutuo con un provvedimento legislativo, preciso ci sono conti matematici che dimostrano che si può fare, per 5 anni tagliamo del 50% le rate di mutuo, noi creiamo una possibile domanda delle famiglie dell'ordine di 1, 2, anche 4 punti di PIL per 5 anni. Questo vuol dire dare fiato all'economia e creare nuovamente la possibilità di una ripresa dei consumi. Riprendere i consumi vuol dire che riprendono le vendite, vuol dire che riprende la produzione, vuol dire che riprende l'occupazione. Senza questo non abbiamo prospettive, né noi nel nostro settore, né l'industria italiana che sta morendo, soprattutto la piccola industria. A chi voleva porre queste domande? Ecco, un secondo. Allora, chiedo questo. Questo studio che ho fatto e che metto a disposizione di chiunque lo voglia, glielo mando via email, è stato presentato anche alla nostra associazione, già da tempo, è stato presentato a giornalisti, è stato presentato a persone del mondo politico, eccetera. Tutti. Che bello, che bello, che bello. Nessuno si muove. Allora, signori, abbiamo qui tre associazioni. Siamo 150.000 persone in Italia. Siamo a contatto costantemente con tanta gente. Diamoci da fare. Io lo metto a disposizione, gratuitamente. Non voglio niente. Non voglio riconoscimenti. Non mi interessa fare carriera politica. Non mi interessa questo. Mi interessa. C'è un'idea. Portiamo avanti quest'idea. Quest'idea consentirebbe alle banche di ridurre il contenzioso sui mutui, che sta aumentando a dismisura. Consente alle banche di avere clienti sani, perché l'interesse della banca non è tanto guadagnare sulla differenza fra i 200 miliardi di euro ricevuti dalla BCE e l'investimento in bot. Ma è quello di avere poi degli interlocutori sani e non che falliscono, sennò quei 200 miliardi che poi fra tre anni dovranno restituire. Non li avranno da restituire se i clienti falliscono. Quindi è interesse di tutti. È interesse dello Stato che prende IVA, prende imposte dirette, prende imposte dalle aziende se le aziende lavorano, ma se le aziende falliscono non prende nulla. Quindi è un interesse generalizzato. È interesse del mondo sociale, perché abbiamo una riduzione del contenzioso, abbiamo una riduzione dell'apprensione delle famiglie, abbiamo una riduzione del bisogno di sostegno alle famiglie e alle imprese. Abbiamo le associazioni. Facciamoci noi promotori di questa iniziativa. Grazie. Roberto Fulciniti, io faccio questo lavoro da circa 22 anni. Dopo la splendida proposta del dottor Girardi, ne vorrei aggiungere una, un po' più terra a terra e non, diciamo così, economico-finanziaria molto fine come quella del dottor Girardi che è prezzo. Che è quella che, credo che ormai il mercato immobiliare italiano sia maturo per fare questo passo, ovvero di fare un MLS degli agenti immobiliari. le tre associazioni nazionali divise e qui unite non capisco quale sia la ragione per la quale questa cosa non la prendano in mano e non rendano un MLS che serve a tutti noi. Grazie. C'è il signore là. Buongiorno, io sono Giuseppe Campisciano, sono vicepresidente di FIMA Milano e mi rivolgo al giornalista in particolare, visto che il giornalista è... Chiamo Pelliccioli. Guglielmo Pelliccioli lo so benissimo, leggo i suoi articoli e tanto lei è arrabbiato con noi e tanto io sono arrabbiato con lei. Sembra giusto. Perché se i suoi articoli... Uno in più per me non cambia molto. No, ma io vorrei che una volta ascoltasse anche le nostre ragioni perché se continuo a fare articoli uno degli ultimi che ho letto intitolava pasticceri e pasticcioni e i pasticceri non erano gli agenti immobiliari naturalmente noi eravamo i pasticcioni ecco la categoria non potrà mai svilupparsi. Io non ho mai letto un articolo in positivo un articolo che spiegasse alle persone alla gente ai nostri clienti cosa veramente fanno gli agenti immobiliari. La stampa ci potrebbe aiutare a fare cultura a far sapere cosa noi facciamo perché si devono rivolgere a noi è chiaro che come c'è un vecchio detto che dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che sta in piedi è chiaro che fa notizie al negativo il positivo non la fa mai però siamo anche stanchi di vedere sempre e solo sulla stampa articoli in negativo noi ci siamo più volte proposti di intervenire nelle trasmissioni per spiegare alla gente cosa devono fare per discernere quando scegliono un agente immobiliare piuttosto che un altro e mai nessuno ci ha invitato ma quando c'è un problema con l'agente immobiliare tutti ci si scagliano addosso per quanto riguarda le sue idee la ringrazio probabilmente da soli non ci saremmo arrivati al decalogo e un'ultima cosa un'ultima cosa consigli a quel suo vicino all'agente immobiliare il suo vicino di ufficio di seguire un corso di home stager che è una nuova professione che serve proprio ad imparare a presentare gli immobili nel miglior modo per vendere in questo momento non per vendere a prezzi migliori ma per vendere in tempi migliori grazie essendo chiamato in casa rispondo perché mi sembra giusto innanzitutto le do una piccola precisazione con l'agente immobiliare è associato FIMA e quindi dovrebbe essere la FIMA a spiegargli cosa deve fare e non Guglielmo Pelliccioli che è un vicino di casa per quanto riguarda i giornalisti e quello che dice lei è vero io sono incazzato con voi ma è stata la prima cosa che vi ho detto ma non singolarmente perché avete delle potenzialità che non esprimete mi aiuti ad esprimerle bravo mi aiuti ad esprimerle allora io due anni fa ho creato un giornale online che si chiama il quotidiano immobiliare agency che è quello che ha letto lei che mando gratuitamente tutti i giorni a 14.000 agenti immobiliari italiani 14.000 vuole sapere signor Campisciano e quanti lo leggono perché essendo online io riesco a vedere quanti entrano 400 gli altri 13.600 agenti immobiliari che non si curano di leggere un qualcosa che è fatto per loro poi non si devono lamentare se la stampa non li segue abbia pazienza Campisciano io mi associo mi associo a questo questo tuo accorato discorso ma devo dire poi alla fine un po' è anche colpa nostra un po' è anche colpa nostra perché chiaramente abbiamo abbiamo una funzione difficile difficile da poter raccontare a terzi è difficile da far comprendere quando abbiamo difficoltà a far capire il ministerio e le camere di commercio quello che noi realmente facciamo noi veniamo fuori scusa ho tolto un attimo la parola al collega ma un momento soltanto noi veniamo fuori da un attacco idiota del al mercato immobiliare che sta mettendo in crisi in questi giorni tutte le considerazioni tutte le trattative che noi abbiamo perché un soggetto presidente di un ente ha fatto una dichiarazione Giuseppe Re no Giuseppe Roma Roma perché ha fatto una dichiarazione priva di realtà senza nessun supporto senza pensare che cosa stava dicendo eppure perché la comunicazione era talmente appetibile i giornali i televisioni tutti quanti ci hanno ricamato sopra e noi abbiamo uno per uno Pelliccioli Asso Immobiliare Federe Immobiliare FIAIP FIMA tutti quanti scritto ma il ritorno è stato 0,01 rispetto a quella bagianata che era stata detta precedentemente è questa la realtà purtroppo è un problema lo so è un problema però è questa la realtà e noi ci dobbiamo lottare tutti i giorni contro questa realtà per cui voglio dire non ci facciamo il sangue amaro noi cerchiamo di fare comunicazione cerchiamo di dare formazione io come presidente devo dire certe volte quando facciamo email a tutti quanti facciamo circolari e dopo 15 giorni incontro il collega e dice ma questo non me lo dite dico ma guarda l'hai ricevuto questo giorno questo giorno e te l'abbiamo ricordato quest'altro ah ma no ma sai ho cambiato l'email ah ma no sai c'avevo degli appuntamenti e non l'ho visti no ma la segretaria non me l'ha stampati questa è purtroppo la realtà per cui meniamo pure Pelliccioli quando se lo merita ma adesso buttagli addosso tutte quante le colpe mi sembra sicuramente eccessivo scusate devo anche dire ma non per difendere Pelliccioli che quell'articolo ad esempio a cui tu facevi riferimento il giorno dopo ha avuto la risposta perché io con Pelliccioli quando scrive delle cose che io ritengo scorrette si becca la risposta di Paolo Righi tant'è che il tuo che io pubblico regolarmente che lui pubblica regolarmente e l'ultimo era per Paolo Righi non ho mai ragione o una cosa del genere per la FIAI non ho mai ragione allora io non mi appellerei a Pelliccioli che viene qua ci dice o non ci dice Pelliccioli fa un mestiere dice delle cose può essere contestato si assume le sue responsabilità ma credimi Campisciano credere a Pelliccioli di aiutarci è strano cioè un giornalista pubblica se tu gli dai le notizie pubblica se tu hai qualcosa da dirgli poi ci può fare la lotta contro ce la può fare a favore abbiamo giornalisti che lavorano e ci dicono gli agenti immobiliari sono eccezionali sono fantastici casomai perché hanno acquistato un immobile e sono stati trattati bene abbiamo agenti immobiliari che ci danno conto perché casomai hanno avuto delle brutte esperienze il nostro problema e lo dico a tutti è che la nostra è una professione variegata e scendendo nel tecnicismo qualsiasi persona può fare l'agente immobiliare abbiamo detto prima fai il corso da 220 ore fai il corso da 100 fai il corso da 800 se io entro e qui la consulta deve intervenire se un cliente entra in un'agenzia immobiliare non sa esattamente quale sarà il servizio che riceverà se vado da passuti mi farà le ipotecarie le catastali controllerà la conformità mi dirà tutta una serie di attività casomai vado da un altro agente immobiliare onesto corretto ma mi dice senta questo è l'appartamento se le va bene bene e se non le va bene niente ci vediamo dal notaio poi se c'è l'ipoteca non c'è l'ipoteca a me non interessa allora le criticità che vengono fuori sono queste noi come categoria non riusciamo ad espellere quelli che non lavorano bene ma sicuramente secondo me dobbiamo farci noi attori di quindi Campisciara la prossima volta che questo scrive qualcosa che non va bene segui le mie indicazioni gli mandi una bella un bel editoriale e lui lo pubblica io ci litigo continuamente con Pelliccioli però guarda caso Pelliccioli viene qua perché? perché alla fine è con il dibattito che si cresce se ci diamo tutti ragione in 380 come siamo qui facciamo come quelli che vanno sul fuoco no? che fanno i i corsi motivazionali e camminano a piedi nudi ci diamo ragione tutti quanti e non si cresce quindi che il Guglielmo Pelliccioli che non voglio difendere perché è grande abbastanza e lo attacco già abbastanza io che Guglielmo Pelliccioli dica la sua in quest'ambito forse è più importante perché lo dice qui è comunque una introspezione noi in questo periodo la dobbiamo fare ecco Giovanni Soncelli rappresento sono amministratore di una società che è sul mercato da 1973 io ho sentito attentamente i relatori e gli interventi e ovviamente tutti condividiamo il periodo difficile mi avete anticipato perché la mia domanda era su che cosa si intende fare oltre a una lettera di protesta per l'intervento di Giuseppe Roma direttore del Censi è stato ripreso dal Tg1 da tutti i quotidiani e dal sole 24 ore credo il 19 di aprile per chi non lo sapesse detto signora Etto che il mercato immobiliare italiano entro il 2012 avrà la pensione dal 20 al 50% sul valore di immobili da quel giorno lì io devo dire che tutte le persone che vengono da noi ci chiedono lo sconto io ho un patrimonio importante cioè un portafoglio importante di immobili sia mandato a titolo oneroso direttamente dall'impresa e il 20% già di sconto sul nuovo non è pensabile non è pensabile conseguentemente effettivamente nessuno in questo momento tra le poche persone che avevano intenzione di avvicinarti all'acquisto di un mercato immobiliare stanno aspettando il crollo del 20 e del 50% per poter riavvicinarsi per cui una letta di potenza secondo me non è sufficiente un intervento pesante al garante della concorrenza della privacy o che si ritiene opportuno come turbativa di mercato sicuramente detto signore che non ha i titoli per poter intervenire sul mercato immobiliare va bene però ha i titoli per poter andare evidentemente in televisione ed essere preso dai media bisognerebbe prenderlo ho sentito l'abusivismo sicuramente tutti noi avremmo avuto a che fare in questo periodo con tanta gente che i mercati di bacche grasse si sono affacciati al mercato immobiliare facendo più o meno legalmente abusivamente la professione di agente immobiliare io mi sono scontrato parecchie volte con una realtà di una persona che pubblicizzava hai mai pensato di vivere in diciamo in un C6 chiamiamolo C6 e io rispondevo mi hai pensato di vivere in un box cioè cercare di vendere gli immobili che sono come residenziali che sono accatastati non residenziali è stata per anni una pubblicità che ci ha sicuramente turbato e fortunatamente questo signore non agente immobiliare smetterà a breve di fare il l'agente cioè il pseudo venditore di case e che comunque in ogni caso con lui non è stata facile per quanto riguarda invece il non ho sentito un accenno su quello che potrebbe essere l'operazione fondi immobiliari parecchi fondi immobiliari la maggior parte ormai arriveranno a fine della loro vita perché arrivano sono dieci anni e quindi dovranno alienare il loro patrimonio immobiliare che dovrebbe essere attorno ai 50 miliardi di euro entro la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo e questo sarà a mio avviso un vero tsunami per quanto riguarderà il mercato degli immobili commerciali o produttivi per quanto riguarda invece le semplificazioni purtroppo io devo dire che le semplificazioni che sono una cosa molto bella oggi i comuni certi comuni prevedono non più ad esempio le concessioni per le pubblicità i cartelloni eccetera eccetera ma fanno la scia la scia deve essere fatta online peccato che io ci ho provato per due cartelloni pubblicitari che mi sono costati di cartaccio circa 3 mila euro di architetti mi sono costati il produrli ho tre settimane per cercare di collegarmi online con il comune ho demandato il tutto alla confcommercio ci hanno impiegato una settimana due persone e alla fine finalmente dopo un mese tre o quattro persone a lavorarci ci siamo riusciti il risultato è alla fine che ho dovuto pagare solo 1400 euro di pubblicità ma mi è costato in termini economici molto di più vabbè niente l'ultimo problema è quello delle banche che sono la causa di tutto e condivido all'intervento di Paolo Bellini inizialmente che le banche che sono state la causa di molto adesso però hanno favorito i soliti noti che con zero lira hanno acquisito patrimoni immobiliari notevoli notevoli e che sicuramente saranno coloro che dovranno contribuire maggiormente a il risanamento della nostra situazione grazie buonasera Giuseppe Catani agente immobiliare 30 anni che faccio anch'io questo lavoro lo faccio con passione con amore e ancora oggi ho tanta voglia di lavorare e continuo a farlo sono contento di questa riunione perché sono convinto che la Bolster è stata solo un pretesto secondo me perché questa invece è l'occasione per confrontarci verificare la situazione del mercato questa è la verità che cosa dobbiamo fare non è semplice dire che cosa dobbiamo fare perché tutti ci riempiamo la bocca tutti sono grandi professionisti noi siamo l'ultima ruota del carro alla fine siamo tutti in questa fase stiamo perdendo l'immagine abbiamo vissuto negli anni passati del benessere che veniva da solo senza pensare abbiamo fatto la cicala ma tutte le professioni il nostro cancro vero il nostro cancro vero è la corruzione il mal costume noi facciamo una professione che se non ci mettiamo la faccia non si sta sul mercato 30 anni come diceva prima Righi dice facciamo le spezioni noi le facciamo le spezioni ma quante cose abbiamo fatto l'esempio da dove si va uno interpreta in un modo uno interpreta in un altro noi come facciamo a venire fuori da questa insicurezza generale e allora passo indietro tutti passo indietro tutti perché torno a ripetere senza professionalità questo lavoro non lo facciamo e allora bisogna incalzare le istituzioni ad esempio già le nostre associazioni tutte e tre perché non faccio distinzione il fatto di poter avere le visure online il fatto di poter avere le visure ipotecarie immediatamente queste sono cose che valorizzano la nostra professione però ci devono anche ascoltare quando noi andiamo e adesso sentiamo dire l'agenzia le agenzie delle entrate diciamo ogni agenzia ha un sistema diverso vai in un comune ogni comune ha un sistema diverso noi i nostri costi sono burocratici come facciamo ad aggiornarci che andiamo in un comune ci dicono una cosa andiamo in un altro ci dicono una cosa le nostre associazioni hanno i loro limiti cercano di documentarci voi pensate che sono le due centore che ci rendono professionali la stragrande maggioranza di noi o è diplomato o è laureata e ha voglia di imparare volete che vi faccia qualche esempio sui giornali io ho dovuto contestare che sono abbonato al giornale solo 24 ore su alcune cose sulla cedolare secca mi hanno risposto educatamente grazie e correggeremo si è verificata la stessa cosa col Corriere della Sera perché io le leggo come viceversa io leggo Pelliccioli ha delle provocazioni però ce le fa è un motivo di spunto e allora per essere propositivi per essere propositivi è crederci veramente ma dobbiamo rivedere tutto il sistema produttivo tutta la catena produttiva dal costo del terreno al costo di costruzione ma alla fine quale sarà il finale l'utile bisogna che decidiamo quanto deve essere questo utile perché allora possiamo effettivamente ridurre i costi delle case perché vediamo l'housing sociale lo fa lo fa già costruiscono a 1200 1300 euro al metro quadro a Milano hanno delle esperienze e questo è quello che vogliamo perché poi bisogna che ci decidiamo che cosa vogliamo fare da grandi possiamo pensare di avere sempre uno sviluppo economico illimitato e non lo so se continuiamo a dire cos'è il pilo cos'è quello cos'è quell'altro sicuramente eliminando la corruzione e dando strumenti e dando strumenti al catastro al comune all'agenzia delle entrate che perdiamo giornate per stupidate e le nostre associazioni dovrebbero farsi valere io gli ho detto non siamo nemici noi siamo cittadini non sudditi quando andiamo in un comune ci devono rispettare e qualcuno l'ha detto non ci possono solo dire di fare di fare l'antiriciclaggio andare a registrare perché siamo 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 insolido con la cosa e poi andiamo a dire ce l'hai la delega o stupidate di questo genere mi sono voluto sfogare ma credetemi io credo in questo lavoro e molti di noi al di là di quello che si lo fanno con amore difficile stare sulla piazza senza far bene questo lavoro perché puoi fregare una volta la persona ma la seconda volta non viene più e ti fa quando sbagliamo quando sbagliamo le conseguenze sono non possiamo sapere quante sono le conseguenze quando qualcuno parla male di noi grazie scusate ma molto più velocemente perché faremo interventi molto brevi perché è questo il convegno cioè ognuno non è che dobbiamo venire qua a fare il commizietto perché tanto ci sentiamo quasi sempre voglio dire però è importante capire anche queste cose allora sicuramente il tema è unico c'è la crisi la politica non dà risposte corrette e abbiamo difficoltà a relazionarci con la pubblica amministrazione con l'attività e sicuramente la nostra categoria in termini generali è deboli è debole sia nei confronti delle istituzioni che nel sentire comune delle persone questo è il quadro no? Giraldi all'inizio ci diceva facciamo una moratoria sui mutui per i cinque anni idea fantastica correttissima che approvi in pieno c'è però poi anche la proposta dei due sottosegretari di togliere le tasse per l'acquisizione degli immobili ci sono tante proposte che possono essere adottate e casomai con determinati benefici il problema oggi del rapporto con la politica che ancora c'è è che nel momento in cui noi ci occupiamo del settore immobiliare o del settore industriale e facciamo qualcosa e questi politici forse faranno qualcosa per un determinato settore mettono il cerotto a una ferita di un corpo malato che sta morendo allora qual è il punto che qui quando sei in questo paese sono 30 anni che si parla di riforme sono 30 anni che si parla di riforme sono 30 anni in cui si parla di riformare il fisco di riformare l'architettura dello Stato allora noi paghiamo l'Imu paghiamo l'Imu ma se tu fai un trust immobiliare lo sposti a Madeira tu non paghi nulla voi pensate che stiamo ancora qua a menacere con le grandi proprietà e con la patrimoniale l'Imu è già una patrimoniale in questo paese la patrimoniale c'è già diciamolo forte e conta 24 miliardi io non so ancora chi oggi voglia parlare di un'altra patrimoniale allora vuol dire affossare il mercato punto fondamentale che se qui non si riorganizza veramente lo Stato e non con tutte queste meno parlamentari più parlamentari prendano mille euro in meno questo è fumo negli occhi per noi perché gioiamo se un parlamentare prende 5 mila euro in più lo facciano ma non è questo il risparmio il risparmio e il settore lo si lavora se diciamo basta le amministrazioni comunali che costruiscono immobili quando le piccole imprese di costruzione hanno un milione duecentomila immobili di invenduto basta ai costruttori ai comuni costruttori che poi visto che siamo in diretta lo posso dire poi lavorano con le mazzette occupano territorio del magazzino che abbiamo cosa ne facciamo questo è un altro grande tema molto importante perché qualsiasi bottegaio negoziante qualsiasi persona sa che se non svuoti il magazzino non puoi ripartire questo è un tema che in consulta si è sollevato basta a questa attività l'MLS per gli agenti immobiliari è correttissimo cioè è quello che diciamo da tempo che tutti gli agenti immobiliari devono collaborare devono fare rete il cliente non gira più nelle singole agenzie va su internet quindi ci vuole la foto bella bisogna fare i corsi di home stager bisogna capire come fare un annuncio che possa essere upgradato a livello di Google ci sono tante attività nuove che nessuno conosce quindi voglio dire alla fine quello che diceva anche Catania è correttissimo l'agenzia delle entrate Catania noi eravamo l'agenzia delle entrate 15 giorni fa con il direttore con il direttore in cui parlavamo proprio di queste cose non sapeva che il 29 sarebbe uscita il blocco della registrazione dei contratti bene quindi non lo sapeva l'agenzia delle entrate il 22 siamo ancora a Roma al Sose le associazioni per fare il gestionale nuovo perché il gestionale che oggi dà l'agenzia delle entrate è inapplicabile perché non ci alleghi i contratti l'agente li vuole i contratti quindi in un mese faremo il nuovo gestionale anche qui concertando facendo qualcosa di buono in modo che poi gli agenti immobiliari possano fare queste cose allora guardate il punto poi più di subito il punto è le riunioni come oggi e lo diceva prima il vostro il presidente Angeletti le riunioni come oggi servono ma ricordatevi che la vita associativa c'è tutti i giorni io giro dentro dei consigli parlo della mia associazione dove nelle assemblee posto mille iscritti ci sono 300 persone o ce ne sono 100 se oggi non si capisce il valore dell'associazionismo e del fatto di portare tutti noi un sistema e una proposta per fare in modo che non siano solo quei tre che sono qua dietro il banchetto a dire delle cose che casomai sono condivisibili ma che possono essere migliorate questo sistema non sta in piedi cioè questa crisi ci porta anche al fatto che ognuno delle persone che è qui dentro deve dare il proprio contributo e il presidente nazionale io parlo per me è un operatore è uno che deve raccogliere le cose che vengono fuori e poi metterle in atto non è quello che comanda il gruppo allora la responsabilità è di tutti noi perché questa crisi ci insegna che c'è una nuova socialità c'è un nuovo modo di fare associazione e ci deve essere un nuovo modello di partecipazione quindi io ho preso nota di tutte queste cose naturalmente le elaboreremo sentiremo delle altre però l'invito pressante che faccio è confrontiamoci confrontatevi nelle vostre associazioni confrontatevi tutti i giorni perché è necessario confrontarsi per crescere altrimenti non ne usciamo diciamo che l'esempio che Paolo Righi ha portato quello dell'agenzia dell'entrata è talmente eclatante l'abbiamo visto insieme in cui questo sistema purtroppo non ha connessioni sembrano scheggi impazziti ognuno va da una parte per poi ritornare indietro le difficoltà sono proprio queste quando io parlavo di semplificazioni parlavo proprio della vita di tutti i giorni perché il problema dello striscione dell'insegna sono problemi che è vero che li facciamo li affrontiamo una volta ogni tanto per lo striscione e per l'insegna ma poi una volta ogni tanto ce l'abbiamo per il personale una volta ogni tanto ce l'abbiamo per il registro dei preliminari una volta ogni tanto ce l'abbiamo ogni settimana questi problemi e purtroppo non si sta facendo nulla per semplificare l'MLS l'MLS per me è uno di quei servizi di cui accennavo prima dove dobbiamo fare uno sforzo di razionalizzazione di centralizzazione o di condivisione massima cos'altro aggiungere quando parlavamo prima di comunicazioni la bomba del census che ci ha danneggiato fra l'altro adducendo come l'unica scusa l'IMU come se uno decidesse di di comprare o di vendere una casa o di non comprarla perché avrà l'IMU che saranno 500 euro 1000 euro al mese o ce l'hai i soldi per comprarti la casa o gliela fai a indebitare scusate l'anno ma non è che per 500 euro l'anno tu ti vendi una casa ti vendi una casa se hai perso il lavoro ti vendi una casa e non gliela fai pagare il mutuo non è che ti vendi casa perché arriva l'IMU l'IMU è una l'IMU è un la goccia se il tuo bicchiere è già strapieno e quello che siamo riusciti a fare io ringrazio anche il mio presidente di Roma che ha perso quattro ore con un giornalista di servizio pubblico Santoro per convincerlo a non mandare il giorno dopo un servizio da Santoro sul crollo dei mutui del crollo dei prezzi degli immobili perché era partita una trasmissione in cui fra i vari argomenti si doveva dire signori fermi tutti non comprate più case perché vi stanno crollando i prezzi addosso e quindi fargli capire che il problema non era il calo o il non calo dei prezzi il problema è l'impoverimento della nostra società il problema era l'impoverimento di tutti quei soggetti che pensavano di aver raggiunto l'obiettivo della loro vita e si trovano un pugno di mosche era il problema di buttare ulteriore depressione in una situazione in cui nessuno di noi riesce a capire che cosa può fare per la società a che cosa saremmo chiamati volendoci pure accollare metterci sulle spalle uno zaino pesante per la società oggi il problema non sono l'impo non sono i tassi o le banche il problema è la fiducia nel futuro è questo che oggi ci stanno togliendo e allora se togliamo anche la fiducia dei soggetti che hanno investito nella propria casa dove uno Stato sono 20 anni che non ha fatto assolutamente nulla per il mercato delle locazioni dove uno Stato è stato assolutamente assente in una qualsiasi tutela per le locazioni dei scelti bassi uno Stato che dal 78 con l'ecocanone e con l'investimento degli enti sui titoli di Stato anziché sugli immobili ha impoverito quel patrimonio quel serbatoio che c'era per consentire a chi non poteva comprarsi casa di avere una casa di affitto questo oggi è un serbatoio che si è creato si è costituito soltanto con i risparmiatori italiani quelli che hanno comprato il secondo il terzo appartamento e che se lo tengono affittato io ho letto l'altro giorno un articolo che mi ha fatto venire una rabbia addosso perché era quando hanno dichiarato che il 5% degli italiani possiede il 25% delle case capito? che sfruttatori sono dei benefattori perché l'altro 20% che uno utilizza l'hanno messa a reddito l'hanno messa a disposizione della società e questa dobbiamo cercare di ribaltare la visione chi ha una casa non pesa sullo Stato anzi paga i servizi crea stabilità nella società chi ha una seconda casa l'affitta fa una cortesia allo Stato perché lo Stato in questo spazio è completamente carente scusate ma è un argomento che mi mi prende parecchio sì perché purtroppo andiamo poi a focalizzare l'attenzione su piccole cose quando di fatto è il sistema Italia che ha ha qualche cosa che non riusciamo a capire dove possiamo intervenire scusate vi do una bella notizia vi accennavo prima alla riforma del lavoro tutti gli amendamenti sono stati ritirati in commissione e quindi come dicevamo prima la maggioranza quindi il governo ha approvato l'articolo 3 poi se ne discuterà per cui la presunzione di quel coma 1 non ho per altresì quella vi ricordate dei collaboratori ditte individuali altresì con riferimento alle prestazioni revorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri albi ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni la ricognizione delle predette attività è demandata per decreto al ministero del lavoro e delle politiche sociali quindi voglio dire la maggioranza ha riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto per questa categoria e quindi sono escluse dalla riforma del lavoro e esclusa la nostra professione e quindi una buona notizia in questa giornata di lacrime poi casomai siamo ce la meritiamo insomma qualche genio la cambierà però per adesso siamo ne volevo solo puntualizzare una cosa che ha detto il signor Soncelli parlando dei fondi immobiliari e mi è sembrato di capire che fosse preoccupato su che fine faranno i 45 miliardi di immobili che sono all'interno dei 147 fondi immobiliari che ci sono in Italia allora premesso che questi 45 miliardi è vero che sono in scadenza ma ce ne sono 3 quest'anno 10 l'anno prossimo 7 o 8 ma non è questo il problema il vero problema è un altro e io ho fatto un po' di tempo fa il conto delle commissioni dei fondi immobiliari e ho fatto una piccola tabella su quanto questi fondi qua si trattengono per loro quello più esoso il 30% cioè vuol dire che l'utile del fondo il 30% se lo tiene la società allora detto molto francamente che cosa succede adesso quando sono in scadenza pare che hanno chiesto tutti il periodo di grazia di 3 anni ma succederà una cosa semplicissima che se loro devono venderli a qualsiasi prezzo li possano vendere loro li vendono per chi resterà col cerino in mano sarà il cutista non sarà certo l'SGR si è già guadagnata per i 10-12 anni precedenti quello che poteva guadagnarsi ma c'è una seconda possibilità che forse è ancora più perversa è che questi fondi passino dal fondo A al fondo B continuando questo meccanismo perverso per cui depoperandosi ulteriormente ecco mi sono incavolato con i costruttori con gli agenti immobiliari con le SGR prima della fine ci sarà ancora qualcuno trovare una fidanzata no eh è una buona idea grazie del suggerimento questo per dire che uno fa il giornalista ce l'eva anche a cercare le rogne potrebbe stare tranquillo la giornata deve essere una giornata operativa l'abbiamo detto fin dall'inizio e quindi credo che debba terminare con dei buoni propositi allora i tre presidenti che mi sembrano quasi i tre come si chiama dai no 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 i tre i tre i tre amigos i tre amigos i tre tenori ecco oggi sono qui che devono prendersi degli impegni allora mi pare che le provocazioni vengano vadano su tre grandi binari uno dovremmo fare immediatamente Valerio Paolo un incontro con Abbi e il ministero del tesoro sulle rate dei mutui delle famiglie sulla casa la casa è tassata sopra ogni limite l'imu qualcuno non li verrebbe voglia di non pagarlo perché tanto dice sono ipotecato che se la paghi la banca perché così almeno io non ho questo impegno ma non sa che poi le conseguenze sono peggiori ma al di là delle battute c'è una sostanza c'è una verità noi dobbiamo puntare come diceva il nostro amico Girardi a chiedere e credo che sia il momento giusto per chiederlo a chiedere la riduzione sitis impliciter del 50 del 30 del 40 non lo so ma comunque delle rate delle famiglie con prole senza prole non lo so diamo dei principi e dei parametri su una moratoria vera voi siete andati in banca a chiedere sulla moratoria dell'impresa sulla moratoria bene te lo fanno per piacere perché sei un buon cliente e ti dicono beh quante rate hai pagato vabbè vuol dire che vediamo i tuoi 20 anni li hai magari lo portiamo a 25 poi la banca ti rimette in sesto il tasso di interesse o meno no noi dobbiamo tentare col nostro peso unito di portarci a chi di dovere l'abi ovvio che va affrontato e vorrei dire una cosa per i cioli prima quando parlavamo di numeri lui mi ha parlato del 40 oltre il 50% della riduzione della domanda di mutuo io ho la fonte Eurix Eurix Sudati Crif che mi dava il 45 un articolo 2 di oggi parla del meno 47 io vi dico che l'abi parla di un più 3% sui prestiti per l'acquisto della casa allora se vogliamo essere ottimisti noi lo siamo non capisco due cose uno il più 3 sull'ultimo pare trimestre ma poi perché prestiti e non mutui perché mi parla di prestiti e non mutui l'abi che non è che non sa toccare con dovizia i termini delle cose perché probabilmente non si parla di mutui si parla di altre cose quindi al giornalista Peliccioli che io amo odio ci siamo amati ci siamo odiati ma alla fine siamo sempre qui Guglielmo vedi ecco che perché perché il carattere perché la verità perché le cose sono importanti per tutti alle volte danno fastidio e alle volte invece aiutano ecco io vorrei capire perché questo messaggio di oggi più 3% di prestiti per l'acquisto della casa fatto dall'abi allora colleghi uno valutiamo la prossima settimana se ce la facciamo e l'interattività ci aiuta a essere uniti uno se possiamo elaborare se siamo in condizioni di elaborare una forte richiesta di aiuto alle famiglie perché come dice Girardi ma lo diciamo in tanti Girardi oggi ha tirato fuori una cosa vera la famiglia ancora è il sistema ancora è in parte dell'economia due al garante e all'antitrust la FIAP si ricorda bene cosa ha pagato all'antitrust per colpa dell'antitrust per quella favola che ci dicevano che eravamo in un cartello e vi garantisco e ve lo dico e l'ho sempre detto che noi non abbiamo mai fatto un cartello ma ci eravamo adeguati a indicare ai nostri associati una provvigione chiara non superiore a non dobbiamo uscire da quel binario state su quei parametri dicevamo noi e questo ci ha cagionato delle multe sapete bene perché si diceva che noi chiedevamo di uniformarci tutti al 3% sulle provvigioni se vi ricordate su questo perché oggi non torniamo a quel tavolo anche appunto per chiarire gli aspetti che la questione Roma vero si chiama Roma con l'idecensis ha sollevato e quindi l'amico del milanese che là in fondo che mi pare che si chiama Soncelli giusto ecco ha ragione quando dice che qui si rischia la turbativa di mercato quando si vanno a dire queste cose ed è un reato la turbativa di mercato io non ho visto questi cali devo essere onesto che in larga parte d'Italia il consumatore non solo vuole il prezzo migliore ma lo sconto te lo sta chiedendo per il peso che ha la sua liquidità per il peso che ha il fatto che lui compra anche in questo noi potremmo presentarci e qui Valerio con grande piacere non dico i soldini che ci hanno fatto spendere in modo tale da avere ti do una precisazione su questo argomento che abbiamo già affrontato perché chiaramente è la prima cosa sul quale avevamo focalizzato la nostra attenzione l'interpretazione però è che turbativa di mercato per essere accusati dalla garante per la concorrenza ma è turbativa di mercato occorre che il soggetto abbia un interesse nel mercato per cui se quel ragionamento se quella buttata anziché averla fatta il Censis Roma come presidente del Censis l'avesse fatta Lance allora sarebbe stata considerata turbativa di mercato essendo un istituto indipendente non ha convenienza o vantaggi o svantaggi nel fare un intervento di questo tipo e quindi non è perseguibile se no era la prima strada che volevamo fare va bene io comunque un confronto lo andrei a fare per mettere chiaro sia alla stampa sia alle istituzioni che andiamoci piano a lanciare chissà quali tipi di allarmi al governo noi dobbiamo presentarci al governo inteso come il ministero di riferimento proprio per ribadire il ruolo degli agenti immobiliari lo ha detto anche Peliccioli che è tutto dire e quindi il ruolo dell'agente immobiliare oggi è un ruolo che è lasciato un po' in parte invece noi dobbiamo capire che questi nostri soggetti e Valerio credimi l'ha detto un signore Catania mi pare che ha parlato prima noi siamo scolarizzati guardate che quasi la metà dei nostri operatori hanno la laurea in mano quindi dopo c'è un'altra metà che probabilmente ha comunque una sua scolarizzazione ci siamo tutti noi che abbiamo bisogno di aggiornamenti continui questo è verità quindi sostanzialmente direi confrontiamoci dico la prossima settimana per far tenere alto l'interesse verso questa categoria io voglio dire tre cose Guglielmo se me lo permetti uno abbiamo in sala qui il presidente della nazionale di calcio degli agenti immobiliari che è sempre distratto che si chiama Gerry e parla là in fondo comunque vi ricordo che c'è questa nazionale formata da FIAI per FIMA ma sei distratto in continuazione questo spot e quindi ricordatevi che esiste questa realtà che gira l'Italia e gira anche il mondo io grazie a loro ho vissuto a New York un non so che tipo di torneo un torneo incredibile fatto appunto con gli industriali con gli agenti immobiliari con cinque nazioni ricordatevi che esiste una nazionale che fa ovviamente della beneficenza continua ricordatevi che esiste ho visto una volta Righi in pantalocini corti che era bellissimo da vedere quel giorno non so perché e quindi direi teniamola buona quella cosa lì non era programmata vero? ecco vero quindi ecco io vorrei anche se mi permettete fare un passaggio abbiamo parlato di tante cose ci siamo confrontati abbiamo visto che il nostro è un parterre limitato e via anche questa non è preparata ma volevo ringraziare Elio che è qui perché mi ricorda un grande che si chiama Giovanni Gabetti che io ho conosciuto che è suo padre è la prima società che merita un applauso che da Torino diceva sempre quei calzoncini corti si è portato poi a conquistare un mercato un mercato che ci ha portato ad avere un'azienda la prima che nell'intermediazione si è fatta quotare in borsa la prima che ha strutturato un'azienda la prima che ha saputo fare il salto di qualità dal vecchio mediatore diciamo così a un agente un po' più raffinato un po' al quale richiedere più cose ecco io volevo proprio ringraziare te la memoria di tuo padre ma anche proprio la Gabetti in questo fuori da ogni schema e tu lo sai come sono fatto io proprio perché riconosco a questa società una grande capacità dalla quale poi sono a ricaduta nate tutte le realtà che conosciamo e quindi volevo ribadire un concetto agli amici che mi hanno così preceduto un concetto che bisogna tentare di amalgamare il buono che c'è in ogni realtà l'indipendente scolarizzato preparato che partecipa a queste situazioni è di certo l'agente immobiliare a cui le famiglie si affidano perché molti si affidano a Paolo Bellini perché ritengono che sia bravo io faccio l'agente immobiliare lo faccio tuttora e quindi ho piacere quando uno mi sceglie perché gli devo risolvere dei problemi dall'altro ci sono delle aziende strutturate che fanno dell'immagine della tematica della organizzazione della formazione la loro qualità la loro differenziazione qui abbiamo in Italia dei gruppi che sono leader in Europa per quantità e ovviamente quando si è in tanti ci sono anche tanti problemi alle volte ma comunque abbiamo il primato di una realtà che è Tecnocasa che è uno dei primati a cui tutta Europa ci invidia ed è una realtà che si sta espandendo in tutto il mondo ve lo dico perché è stato bersaglio questa realtà di grandi critiche oggi vi devo dire la verità tesoro virtù sono cresciute queste realtà come sono cresciute altre realtà come la Toscana Immobiliare ma come la professione ma come tutta la realtà io non voglio fare no ma non è la pubblicità no ma vi spiego vi spiego no vi spiego perché se avete vi spiego perché oggi prendendo questa prendendo questa torta vede che è pubblicata in vari siti italiani ho cercato di capire come era divisa il nostro territorio il nostro mondo e il nostro mondo è diviso fra realtà indipendenti che vi ho detto prima al 90% al 10% delle realtà che stanno spingendo in avanti la professione e questo vedere spingere in avanti la professione vuol dire anche riconoscere a tutti noi la capacità di andare avanti scusate devo intervenire lasciami finire poi dopo fai tutte le critiche che vuoi volevo terminare anche questo mio intervento ringraziando vorrei dire colui che ha permesso che questa realtà si potesse realizzare cioè la consulta la consulta sapete è un tavolo comune di tre associazioni oggi ma quando fu ideata da Luciano Passuti che è qui mi credo che al tavolo ne avesse chiamate 18 di associazioni poi si sono formate le tre associazioni riconosciute dal ministero perché hanno il requisito della diffusione su tutto il territorio nazionale e dicevo che anche per Luciano questo potrebbe essere oggi una giornata interessante quella di riprendere i messaggi i discorsi e i dibattiti fra le tre associazioni che sono diverse tra loro e nella diversità vogliono trovare un messaggio comune quindi diceva Volter io lotterò tutta la mia vita per difendere la tua idea anche se non la condivido sappiate che questo è il principio del tavolo della consulta dobbiamo confrontarci per trovare momenti di incontro per partecipare a situazioni più gradi io la prossima settimana vorrei fare qualcosa di concreto al governo al ministero all'ABI in quelle realtà che ci hanno provocato di fare grazie una piccola precisazione con riferimento a quei dati bancari che diceva Paolo Bellini che non capiva perché le banche dicono che sono cresciute del 3% quando invece abbiamo detto tutte e due che sono diminuite del 50% attenzione le banche ragionano per stock non per flussi quindi vi faccio un esempio banalissimo se in questo momento tutti i mutui erogati dalle banche negli ultimi 15 anni ammontano a 100 miliardi è un esempio e se loro quest'anno ne erogano 3 passano a 103 ne scadono 2 e aumentano comunque di 1 ma potrebbero aver erogato solo 3 anziché 10 dobbiamo stare attenti a capire i messaggi che vengono dati le banche ragionano per volume quindi il volume tendenzialmente siccome sono di più i mutui che vengono dati di quelli che vengono chiusi per scadenza tende a crescere però il flusso sono quei dati che abbiamo detto prima Paolo ha detto delle cose come sul mercato ma questo è il fatto che in Anama ci sono rappresentate delle catene di franchising e delle persone io come FIAIP rappresento tante agenzie immobiliari grande e piccole e quindi chiaramente faccio più fatica a dire il nome di 12-13 mila persone è importante stabilire che sul mercato ci sono vari modelli organizzativi che non vanno colpevolizzati però mi sembra chiaro che la crescita del mercato del nostro settore avviene nelle piccole agenzie come nelle grandi nelle imprese familiari che casomai sono da 50 anni sul mercato e sono tre generazioni che studiano non lavorano e che ugualmente portano alla crescita di quello che è la nostra professione quindi è chiaro che il presidente Bellini parla delle sue realtà che ben conosce ma la consulta è proprio questo l'incontro a volte e ve lo dico molto difficile e chi mi conosce sa quanto io sia fumino e quindi mi sento di rispondere in questo tipo cioè non vorrei che si passasse dal colpevolizzare i primi franchising adesso i franchising colpevolizzassero le piccole imprese tutti hanno la propria dignità tutti lavorano e quello che conta è essere onesti senza fare troppa pubblicità grazie mi sembra antipatico che non aggiunga qualche cosa ma devo dire io questa differenziazione eccessiva sia che fa Paolo Bellini sia che fa Paolo Righi non la trovo ma non la trovo per un semplice motivo perché parlando posso fare il nome di Tecnogasa ma non assolutamente in maniera denigratoria io non vedo Tecnogasa come una struttura perché la struttura franchising è un niente io vedo i 3500 mediatori agenti immobiliari di Tecnogasa che stanno sul territorio i 3500 negozi quelli hanno le stesse problematiche che hanno tutti quanti gli altri quindi evitiamo di ragionare su due livelli il sistema di franchising il sistema di network qualsiasi sistema di collaborazione può essere più o meno spinto ma lo cerchiamo alla fine tutti quanti io devo stare attento noi vogliamo stare attenti alle problematiche di quei 3500 colleghi che tutte le mattine alzano loro serranda e mettono le etichette verdi poi i miei ce la potranno avere rossa blu di qualsiasi colore ma l'essenza l'essenza dell'attività che si svolge tutti i giorni è completamente allineata tra tutte le varie strutture questi discorsi a mio avviso fanno male fanno male perché ci tolgono la serenità di vedere quello che è il lavoro comune a tutti una norma per aprire un'agenzia una scia va bene per tutti o è un problema per tutti io quindi inviterei invito anzi è perché ogni nato mi docca fare da pompiere sempre in certa realtà sia l'amico Paolo Bellini che l'amico Paolo Righi di pensare che quando si parla di un sistema o di un altro ci siano delle differenze sì ma per fortuna che è tutto registrato nessuno ha parlato di differenze io solo non ho voluto parlare del tavolo organizzato da FIMA con tutti i franchisor d'Italia ho voluto solo dire che esiste un mondo formato da varie realtà e vanno valutate positivamente soprattutto le diversità di ognuno per fare discorsi comuni quindi io vi ringrazio e ti ringrazio molto di quello che stai dicendo dopo Paolo Righi deve fare giustamente la sua funzione ma è una funzione di chi ha la maggioranza degli operatori in mano ho detto che il mercato è fatto da agenti individuali questi agenti individuali sono la forza del nostro mercato vi ho detto che ho qua lo schema il blu sono gli individuali i rossi sono gli organizzati però non dobbiamo dimenticare che il mercato è fatto da entrambe le realtà che hanno il di buono e di meno buono in egual misura ma nessuna voglia di fare pubblicità è solo per dare una realtà se poi ho parlato di Giovanni Gavetti e questa è pubblicità me ne prendo la colpa e cosa volete che vi dica avevamo un rapporto che era fuori da ogni vi ringrazio per l'attenzione siete stati molto pazienti ci sono state anche delle critiche io più di tutti però scusate grazie grazie grazie